Tantissime emozioni al Castellani, ottimo inizio della Salernitana, che spinge costantemente e sfiora più volte il vantaggio, ma a sbloccare il risultato al minuto 30 è Cutrone. Nella ripresa fioccano le occasioni, Cutrone colpisce il palo, Bonazzoli entra e trova il gol del pari in rovesciata. Poi Massa assegna un rigore grazie al VAR, sul dischetto si presenta Perotti, che però viene ipnotizzato da Vicario, partita super del portiere, che ha parato davvero di tutto. Al minuto 84 Diego Perotti piazza il rigore con il destro senza però calciare in maniera potente. Vicario ci arriva in tuffo. Grande delusione, la trasformazione del rigore avrebbe regalato tre punti preziosi per tenere accesa la fiamma della salvezza, i campani si giocheranno tutto all'ultima giornata. Grazie a tutti.